buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova lezione di tecniche di programmazione in questa lezione vedremo un esempio pratico del pattern model view controller quindi se non l'avete ancora fatto vi consiglio di prima di guardare questa video lezione di guardare quella teorica su questo argomento lezione con cui andremo a vedere come possiamo praticamente disaccoppiare la logica dell'applicazione il nostro modello dall'interfaccia grafica la vista con il controllore che fa un po' le veci di quello che interconnette queste due parti per farlo andremo a modificare il primo esercizio che abbiamo fatto insieme ovvero quello dell'indovina numero lo andremo a modificare affinché segua questo pattern model view controller allora per impratichirci un po' ancora con git ho proprio cancellato il progetto che avevamo fatto dal mio pc lo andiamo a riprendere da github io ho caricato l'esercizio su github e quindi vediamo come possiamo importare il progetto di nuovo sul mio computer quindi vado ad aprire il repository su github mi indovina il numero e vado qui su clone e posso copiarmi l'indirizzo per clonare il repository che non è quello della pagina web ma è quello che github ci fornisce qui la differenza tra quello che sto facendo e quello che dovete fare voi è che io e il professore ovviamente abbiamo il permesso di scrivere sull'organizzazione tdp 2020 voi no quindi prima di clonare un repository ad esempio nei laboratori voi dovete prima di tutto fare fork per portarvelo nel vostro repository privato e dopodiché fare un clone da là io invece posso farlo direttamente di qui copio l'indirizzo e poi da eclipse non creo più ovviamente un progetto nuovo ma voglio importarne uno lo voglio importare in particolare da git quindi importo voglio in particolare clonare un repository addirittura il computer ha già riconosciuto che avevo copiato quel indirizzo me l'ha già salvato perfetto questo è il mio username di github la mia password next qui mi chiede quali branch voglio copiare non so se avete già visto in precedenza il concetto di branch lo useremo oggi in questo momento c'è solo un branch il branch master in questo progetto quindi lascio tutto com'è next qui posso specificare la cartella in cui voglio in cui voglio andare a salvare il mio progetto sul mio pc localmente direi che può andare bene questa next lui ora sta clonando il repository next finish sta importando tutte le librerie fortunatamente non ci sono errori e qui mi ritrovo esattamente lo stesso progetto che avevo l'altra volta se andiamo sulla classe main e proviamo a lanciarla in teoria dovremmo eccola qua avere la nostra classica interfaccia di indovina il numero molto bene adesso vediamo un attimino il concetto di branch noi vogliamo fare una modifica abbastanza sostanziale a questo a questo progetto al tempo stesso non vorremmo perdere tutto quello che abbiamo fatto fino ad adesso per far questo abbiamo la possibilità di creare un nuovo branch che cos'è un branch sostanzialmente un mondo parallelo in cui possiamo modificare il nostro programma senza che il programma vecchio venga venga intaccato in poche parole quello che abbiamo fatto rimarrà nel branch master noi ora andiamo a creare un nuovo branch in cui partiremo dal branch master per aggiungere le nostre modifiche come faccio tasto destro sul progetto team switch to new branch possiamo dare un nome al branch ad esempio refactoring mvc e possiamo configurare questo branch per fare push e pull ovvero tutte le modifiche di cui faremo commit e push andranno a finire su questo branch refactoring mvc lasciando il branch master così com'è finish come vedete qui in alto sul progetto possiamo vedere che adesso siamo attualmente sul branch refactoring mvc molto bene partiamo con questo refactoring allora innanzitutto ci servirà sicuramente il modello ovvero la parte del pattern che controllerà la logica della nostra applicazione che cos'è un modello? semplicemente una classe java dove creiamo questa classe? beh per fare le cose per bene io direi che possiamo crearci innanzitutto un nuovo package che conterrà le classi del modello ora il nostro modello sarà molto semplice è un'unica classe ma vedremo più avanti che all'interno di questo package potremmo avere più di una classe relativa relativa al modello quindi tasto destro sul progetto new package it.polito.tdp.indovina.numero ovvero il package di base del nostro progetto .model eccolo qui il nostro package che conterrà le classi del modello all'interno andiamo a creare una classe java che chiamiamo possiamo chiamare model come vogliamo finish ottimo adesso la prima domanda importante sicuramente il controller che deve mettere in relazione il modello che abbiamo appena creato con la vista ovvero l'interfaccia grafica conterrà un riferimento al nostro modello mi sembra abbastanza chiaro quindi all'interno del controller avrò sicuramente un riferimento al mio modello non devo importare ottimo la domanda è chi crea questo modello? potremmo pensare di fare una cosa del genere nel metodo di inizializzazione dire this.model uguale new di model sebbene questa questa cosa funzioni non di errore è concettualmente non dico sbagliato ma rischioso facendo così infatti qui abbiamo una fortissima relazione tra questo controllore e il modello che abbiamo creato ovvero il controllore userà proprio il modello che si chiama model cioè caratterizzato dalla classe model e non un altro la forza del pattern model view controller tuttavia è proprio quella di tenere questi concetti separati ovvero io potrei anche cambiare il modello senza cambiare il mio controller definendo il modello creando il modello qua questo non lo posso più fare quindi sicuramente non è qui il posto giusto per creare il modello questo modello andrà creato dall'esterno e poi assegnato a questo controller come faccio ad assegnarlo beh posso prevedere un metodo pubblico del controller chiamato ad esempio set model come parametro questo metodo riceve un modello dall'esterno già creato pronto per essere utilizzato in questo modo i concetti sono disaccoppiati e il modello può anche cambiare senza che il controller debba per forza anche cambiare dis.model uguale model attenzione questo è fondamentale perché la pura dichiarazione della variabile non vuol dire avere già il modello cioè questa questa variabile se non andiamo a riempire ovviamente è vuota ottimo chi crea questo modello lo possiamo fare dalla classe entry point cioè dai metodi dai primi metodi che vengono chiamati quando noi clicchiamo su run application allora attenzione qui dobbiamo andare a modificare un tantino il codice che l'archetipo ci ci da ok lo faremo sempre però sarà sempre uguale quindi imparato una volta imparato per sempre soprattutto negli esercizi che verranno noi cercheremo già di darvi dei dei progetti che contengano già questa parte fatta soprattutto anche all'esame quindi sarà un codice che tipicamente non dovrete riscrivere però è importante saperlo perché se vi capiterà dobbiamo capire cosa fare allora come possiamo fare innanzitutto dobbiamo recuperare un riferimento al controller perché dico questo perché io qui posso sicuramente fare la new del modello e abbiamo capito perché questo è il posto giusto per farlo importo la classe perfetto dopodiché io dovrei avere il mio controller fxml controller controller e su questo controller fare il set model del modello che ho appena creato qual è il problema è che questo controller al momento è una variabile definita ma non valorizzata infatti mi dice che la variabile locale potrebbe non essere inizializzata ed è proprio così dobbiamo recuperarci un riferimento al controller come facciamo innanzitutto dobbiamo recuperare un riferimento all'ifxml loader che è una classe predefinita di java fx quindi copiamo questa stringa qui no non la copiamo esattamente così ma diciamo che fxml loader è uguale a new fxml loader di questa roba qui che possiamo recuperare dalla riga che c'era già nell'archetipo dal loader possiamo recuperarci il controller controller uguale loader punto get controller in sostanza l'fxml loader va a vedere qual è il controller associato al file fxml mi ricordo che nel file fxml c'è proprio il riferimento alla classe java che funge da controller a questo punto abbiamo il controller e possiamo dire set model d'accordo poi la radice della nostra interfaccia grafica la possiamo ottenere adesso che abbiamo riferimento al loader direttamente dal loader quindi loader punto load creiamo la scena a partire dalla radice aggiungiamo eventualmente il file css che noi comunque non utilizziamo quindi possiamo anche cancellare e il resto rimane esattamente così com'è proviamo a fare a lanciare l'applicazione andiamo sul main run as java application c'è un errore andiamo a vedere perché chiudo un attimo la console torno qui torno sull'entry point ah sì perché dobbiamo creare la scena prima di ottenere il controller c'è proprio un ordine che dobbiamo seguire per queste operazioni riproviamo speriamo di essere più fortunati lancio perfetto non ci sono più errori molto bene quindi nell'entry point della nostra applicazione abbiamo creato il modello ci siamo fatti dare il riferimento al controllore e abbiamo assegnato a questo controllore il modello appena creato ottimo allora adesso andiamo a riempire questa classe di modello vi ricordo che nell'esercizio fatto la scorsa volta tutta la logica dell'applicazione era contenuta nel controller quindi dobbiamo cercare di estrarre da qui la logica dell'applicazione e portarla all'interno del nostro modello sicuramente tutte le variabili che avevamo utilizzato per mantenere traccia dello stato del gioco andranno riportate da qui al modello quindi tutte queste variabili le taglio e le vado ad incollare qui nel mio modello perfetto sicuramente questa è una classe java dobbiamo anche pensare al suo costruttore public model nel costruttore andiamo a mettere tutte quelle operazioni che vogliamo fare proprio quando facciamo la new del modello quindi quando in sostanza parte l'applicazione quando parte l'applicazione sicuramente non siamo in gioco false l'avevamo già scritto qui il posto concettualmente più corretto è farlo forse qui nel modello nel costruttore scusate è partito il gioco quindi i tentativi fatti sono zero altre cose da fare potrebbe potrebbe venirci in mente qui di creare il nuovo segreto cioè di tirare a caso il nuovo numero in realtà questo si potrebbe fare quando l'utente clicca sul bottone nuova partita quindi io direi che qui siamo abbastanza a posto dopodiché ragioniamo sulle azioni che l'utente può fare in questo gioco come abbiamo detto la scorsa volta l'utente può iniziare una nuova partita e può fare un nuovo tentativo in sostanza due azioni quindi avremo nel nostro modello probabilmente due metodi il primo che è relativo all'inizio di una nuova partita quindi al click del bottone nuova partita e l'altro per il tentativo partiamo dal metodo per iniziare una nuova partita quindi public perché sarà un metodo che dovrà essere richiamato dall'esterno e in particolare dal controllore void void perché in questo caso questo metodo non deve ritornare niente nuova partita cosa fa questo metodo beh in sostanza fa quello che avevamo già previsto qui nel nell'handler del bottone ovvero tira a caso il segreto imposta i tentativi fatti a zero e dice che siamo in gioco questa è la logica dell'applicazione che possiamo estrarre dal vecchio controllore ovviamente questo non va riportato nel modello perché come vedete non è logica dell'applicazione ma è un controllo della vista dell'interfaccia grafica quindi è bene che stia qui prendo queste tre righe magari anche il commento e la riporto qui perfetto dicevamo poi che l'altra azione che l'utente può fare è un tentativo public void tentativo qui bisogna ragionare un attimino in particolare sul tipo della funzione e sui parametri che questa funzione dovrà ricevere dall'esterno perché dico questo perché sicuramente qui non sarà void noi dobbiamo immaginare che il controller utilizzerà questo metodo del modello per fare un nuovo tentativo quindi sicuramente il controller dovrà sapere dal modello l'esito di questo tentativo allora possiamo avere molte opzioni per fare questo la più semplice forse è quella di pensare un valore di ritorno di questa funzione intero mi immagino che se il tentativo è corretto quindi se l'utente ha indovinato il numero questa funzione restituisca zero se invece l'utente ha fatto un tentativo troppo alto per esempio questa funzione potrebbe restituire uno viceversa meno uno se il tentativo risulta essere troppo basso questo può essere un'opzione ovviamente ce ne possono essere anche altre dopodiché il modello deve sapere che numero ha provato l'utente quindi sicuramente dovrà ricevere il tentativo come parametro d'accordo molto bene cosa facciamo all'interno di questo metodo beh come primo controllo potrei vedere se la partita è effettivamente in corso cioè se l'utente sta effettivamente giocando perché altrimenti c'è un problema quindi if not in gioco vuol dire che l'utente ha fatto un tentativo nonostante lo stato del sistema sia relativo abbia come variabile in gioco un valore falso quindi dobbiamo scatenare ovviamente un errore allora qui ci sono varie opzioni anche qui una potrebbe dire essere ritorno un valore 5 quando ritorno 5 dal controller so che c'è stato un errore relativo allo stato del sistema ovviamente non è molto carina questa soluzione perché rischiamo poi di non capirci più niente cioè se ritorno 5 qui ritorno 6 di là 1 meno 1 è 0 per il risultato il modo giusto di farlo potrebbe essere usare visto che ci sono le eccezioni quindi questo è un errore scateniamo un'eccezione ci sono molte eccezioni già predefinite classiche modellano eccezioni già predefinite in questo caso direi che la più corretta potrebbe essere il legal state exception siamo in uno stato non legale diciamo così del sistema la partita è già terminata non siamo più in gioco perfetto oltre a questo controllo aggiuntivo che abbiamo fatto dobbiamo sicuramente controllare l'input il tentativo che ha fatto l'utente è un numero valido allora se torniamo nel controller un po' di questi controlli li avevamo già fatti quindi se noi supponiamo che il nostro modello riceva già un intero siamo sicuri che questo controllo sia già fatto nel controller e lo possiamo lasciare qui un altro controllo che possiamo fare è quello d'accordo il tentativo è un numero ma è compreso negli intervalli previsti cioè sta nell'intervallo tra 1 e 100 altrimenti potremmo dire all'utente guarda che stai andando oltre l'intervallo quindi potremmo dire if tentativo minore di 1 oppure tentativo maggiore di nmax anche qui posso scatenare un'eccezione throw new in questo caso potremmo usare invalid parameter exception devi inserire un numero tra più tra 1 scusate e nmax devo importarla credo esatto ottimo adesso possiamo fare un ragionamento in più io qui ho inserito direttamente il controllo nella if ma supponiamo di voler aggiungere anche altri controlli sull'input ad esempio se andiamo a vedere il le possibili le possibili estensioni di questo programma il punto 5 richiedeva di impedire che l'utente possa inserire più di una volta lo stesso numero questo è un ulteriore controllo sull'input quindi io qui dovrei aggiungere delle parentesi mettere delle altre or delle altre end eccetera diventa una if molto lunga mi viene in mente che potremmo definire una nuova funzione apposta per controllare l'input quindi potrei supporre di avere qui una funzione if not tentativo valido a cui passo come parametro il tentativo che è proprio deputata a controllare l'input la definisco qui sotto ovviamente come funzione privata non ha senso che questa venga esposta all'esterno ritorna un booleano vero se il tentativo è valido falso se il tentativo non è valido cosa fa per il momento lasciamo il controllo che avevamo previsto prima quindi se il tentativo è minore di 1 oppure tentativo maggiore di nmax ritorna falso perché il tentativo non è valido altrimenti ritorna vero il beneficio di utilizzare una funzione è che poi questa funzione la possiamo riutilizzare anche in altri punti del programma molto bene se arriviamo qui sotto vuol dire che il tentativo è valido in sostanza possiamo provarlo diciamo così andiamo a vedere che cosa avevamo previsto nel controller sicuramente possiamo incrementare i tentativi quindi dobbiamo incrementare i tentativi control x vado nel modello incremento i tentativi poi torniamo qui abbiamo queste tre queste tre condizioni la prima è ho indovinato quindi torno di qui e mi posso chiedere if tentativo uguale uguale a dis punto segreto esattamente la if che avevo di là a questo punto ovviamente dal modello non vado a modificare direttamente la vista ma che cosa faccio essenzialmente questo cioè imposto in gioco a falso la partita è finita e comunico all'esterno che ho vinto come abbiamo pensato prima ritorno il valore zero molto bene se vado qui sotto vuol dire che non ho indovinato quindi avrò la if ad esempio che mi dice se il tentativo è minore del segreto se il tentativo è minore del segreto abbiamo previsto di ritornare meno 1 altrimenti questo vuol semplicemente dire che se siamo qui abbiamo fatto un tentativo maggiore del segreto return 1 bene c'è un errorino forse manca qualche parentesi ok andiamo di là vediamo se manca qualcosa allora il caso in cui ho vinto l'abbiamo fatto il caso in cui è minore maggiore l'abbiamo fatto manca il caso in cui abbiamo esaurito i tentativi torniamo di qui perfetto quindi se vengo qui vuol dire che non ho indovinato incremento i tentativi se dis punto tentativi fatti è uguale a tmax vuol dire che ho esaurito i tentativi cosa posso fare dico dis punto in gioco uguale falso la partita è terminata dovremmo aver riportato tutta la logica nel modello adesso dobbiamo andare a modificare il controllo il controller affinché utilizzi proprio questo modello per gestire la logica del gioco quindi torniamo qui abbiamo detto che questo primo controllo sull'input il fatto che sia un numero valido e non una stringa ad esempio lo possiamo lasciare qui ma dobbiamo cambiare questa parte qui che ovviamente ora dà errore perché abbiamo eliminato le varie variabili allora abbiamo predisposto i vari metodi quindi lasciatemi cancellare tutta questa cosa qui possiamo dire che il tentativo int scusate risultato è uguale a this punto model punto tentativo a cui passo il tentativo che ho estratto dall'input dell'utente quindi mi sto chiedendo ok questo è il tentativo dell'utente lo passo il modello e estraggo il risultato e ora posso controllare il risultato if risultato uguale uguale a zero vuol dire che ho ovviamente indovinato quindi txt result punto no txt risultato punto append text hai vinto else anzi facciamo subito else if risultato uguale uguale a meno uno significa che il nostro tentativo era troppo basso viceversa else il valore di ritorno sarà sicuramente uno e quindi txt risultato punto append text tentativo troppo alto adesso mancano mancano due cose in particolare la prima è questa la prima è il controllo delle eccezioni cioè se io ho inserito un numero che va al di là ad esempio del range possibile il mio metodo tentativo mi scatenerà un'eccezione stessa cosa se provo un tentativo quando la partita non è in corso quindi dobbiamo catturare queste eccezioni try catch possiamo mettere due catch il primo relativo a questa eccezione di stato illegale chiamiamola se e e la seconda relativa torno di qui al parametro invalido pe devo forse importarla esatto allora se siamo in uno stato illegale scriviamo txtrisultato punto append text se punto get message ad esempio se siamo invece se abbiamo inserito un parametro illegale stampiamo il messaggio della relativa eccezione messaggio che vi ricordo abbiamo scritto qui get message restituisce proprio questo messaggio ottimo ovviamente avendo inserito la variabile risultato nel try catch adesso vive solo tra queste due parentesi quindi la devo definire fuori int risultato e poi risultato uguale diamogli anche un valore di default ovviamente se mi trovo un'eccezione non vado avanti con il programma cioè non vado avanti a provare il tentativo quindi return e anche qui return molto bene l'altra cosa che manca è il fatto che qui non riusciamo a sapere ad esempio con quanti tentativi abbiamo vinto ad esempio io qui vorrei poter dire hai vinto con più tentativi più tentativi dove posso andare a prendermi questo valore dei tentativi ovviamente me lo deve dire il modello cioè il modello deve poter comunicarmi in qualunque momento il suo stato attuale quindi dovrei poter dire this.model punto get tentativi allora torniamo sul modello dobbiamo predisporre tutta una serie di metodi di get ed eventualmente di set ma in questo caso ci basta solo sapere dall'esterno cosa il valore dello stato di alcune delle variabili che vogliamo esporre verso l'esterno fortunatamente Eclipse ci crea già questi metodi in automatico se io vado qui sotto faccio tasto destro source genera get resetter noi vogliamo sapere magari il segreto sicuramente i tentativi fatti per il momento diciamo genera e come vedete Eclipse in automatico crea tutti i metodi di get e di set per le variabili che abbiamo selezionato adesso noi del set non ce ne freghiamo perché non ci serve teniamo i getter per sapere dall'esterno il valore di queste due variabili in questo modo dal controller posso chiedere al modello i tentativi fatti come l'ho chiamato si model perfetto ottimo c'è ancora qualche errore ah eccolo qua vedete che qui voglio nel click del bottone per la nuova partita voglio anche impostare la casella di testo che mi visualizza il numero di tentativi rimasti con Tmax adesso questa Tmax appartiene al modello quindi servirà anche in questo caso un getter punto get Tmax non l'abbiamo fatto ce ne siamo dimenticati lo andiamo a creare subito di nuovo source generate getter and setter Tmax cancelliamo ah no ci ho già creato solo il getter perfetto salviamo model punto get Tmax dovremmo praticamente esserci quindi abbiamo spostato tutta la logica applicativa nella classe model vedete che qui in sostanza il controller usa il modello per provare il tentativo cioè in sostanza al controller non interessa che cosa faccia questa funzione tentativo questo è compito del modello lui la esegue solamente ne prende il risultato e sulla base del risultato modifica la vista vedete come questo sia il l'interconnessione tra il modello e la vista usa le funzioni del modello e in particolare i risultati che derivano da queste funzioni per cambiare dinamicamente l'interfaccia alla vista proviamo a lanciare l'applicazione andiamo sul main la lanciamo ottimo se clicco su nuova partita mi si abilita il lo spazio per inserire un nuovo tentativo proviamo al solito con 50 la partita è già terminata quindi come vedete c'è un piccolo problema che andiamo a cercare di risolvere quindi se andiamo sul controller credo che abbia stampato un illegal state exception quindi si è fermato qui ah certo il problema è che dal controller non abbiamo richiamato il metodo nuova partita se andiamo qui al clic del bottone do nuova abbiamo gestito l'interfaccia ma non abbiamo detto al modello ehi guarda che sta iniziando una partita quindi this punto model punto nuova partita riproviamo vado sul mail lancio nuova partita 50 bene sembra funzionare tentativo troppo alto 25 tentativo troppo alto eccetera ottimo mi accorgo adesso che manca ancora una cosa non stiamo aggiornando i tentativi rimasti ce ne siamo dimenticati lo vado ad aggiungere subito vado nel controller e alla fine di tutto alla fine del mio tentativo aggiorno txt come si chiamava rimasti punto set text this punto model punto get tmax meno this punto model punto get tentativi fatti ovviamente questo è un numero mentre alla set text dobbiamo passare una stringa quindi integer punto to string di tutta questa roba qui riproviamo nuova partita 50 si sembra funzionare 75 ottimo vedete che aggiorna il numero di tentativi rimasti se io vado avanti 0 la partita è terminata molto bene vi proporrei di aggiungere ancora una piccola estensione a questo programma tra le varie estensioni possibili che vi abbiamo proposto in particolare l'ultima proviamo a fare insieme la funzionalità che impedisca all'utente di inserire più di una volta lo stesso numero allora questo come abbiamo già detto prima è un controllo aggiuntivo sull'input come lo posso fare sicuramente dovrò tenere traccia di tutti i tentativi fatti dall'utente quindi dovrò avere in sostanza un contenitore in cui ogni volta vado ad aggiungere il tentativo fatto dall'utente abbiamo varie vari contenitori disponibili in java liste array mappe ne scelgo uno ed in particolare scelgo un set che vedremo è molto più veloce quando dobbiamo cercare un elemento al suo interno quindi private set di interi tentativi chiamiamola così devo ovviamente importarlo perfetto ogni volta che inizia una nuova partita io pulisco creo un nuovo contenitore un nuovo set di tentativi che conterrà la storia diciamo così della partita corrente quindi quindi nel nuovo partita dico this punto tentativi uguale new hash set di interi quindi quindi un nuovo contenitore basato basato su un hash set che avete già visto vedrete è molto conveniente quando noi vogliamo cercare se all'interno di questo contenitore c'è un determinato elemento ed è proprio la funzionalità che usiamo per questa per questa estensione quindi quando facciamo un tentativo se non abbiamo indovinato o possiamo comunque farlo a prescindere dal fatto di aver indovinato o no vado ad aggiungere a questo mio contenitore il tentativo fatto d'accordo questo tiene traccia della storia della partita corrente adesso devo aggiungere però il controllo che impedisca l'utente di inserire due volte lo stesso numero e qui ci viene comoda la funzione che abbiamo definito in precedenza a me basta in un unico punto del programma aggiungere questa parte che mi dica se se il tentativo appunto è già stato fatto oppure no in particolare aggiungiamo un ramo qui alla mia else cioè se il tentativo è nell'intervallo corretto controllo ancora che l'utente non l'abbia già utilizzato if this punto tentativi punto contains tentativo se il mio contenitore contiene già il tentativo ritorno falso false altrimenti vuol dire che è veramente un tentativo valido quindi vedete questa contains nel con un hash 7 funziona molto bene funziona è più veloce rispetto al contents che possiamo fare sulle liste ottimo magari cambiamo anche il messaggino qui oltre che devi inserire un numero tra 1 e nmax devi inserire un numero che non hai ancora utilizzato tra 1 ed nmax proviamo il programma vado sul main lancio nuova partita 50 se io adesso riprovo con il 50 mi dà l'errore ovviamente i tentativi rimasti rimangono a 7 vabbè possiamo aggiungere uno slash n per andare a capo magari lo facciamo subito eccoci qua più slash n lo aggiungiamo anche qui a tutti i messaggi così che riusciamo a stampare un messaggio per riga riproviamo nuova partita 50 ottimo sembra funzionare molto bene siamo giunti alla fine adesso vi faccio vedere come poter fare commit push sul su questo nuovo branch c'è refactoring mvc che al momento esiste solo sul mio computer quindi tasto destro team commit metto schermo intero perché mi fa questa cosa qui ok vabbè forse perché un po' di zoom sì esatto allora vedete che ci sono dei file che erano in sostanza i file dell'esercizio precedente che sono qui sotto mentre c'è il modello il file nuovo che abbiamo creato questa volta che è sopra ricordatevi sempre di aggiungere a git sempre tutti i file nuovi quindi vado a cliccare su aggiungi tutti i file su questa doppia più lui mi porta tutto qui sotto posso aggiungere un messaggio refactoring mvc e clicco su committe push lui mi chiede su che branch voglio fare questo committe push lasciamo pure refactoring mvc next finish è andato a buon fine adesso adesso se io vado su github aggiorno la pagina vedete che qui sono comparsi due branch uno è il master e contiene ancora l'esercizio che abbiamo fatto la scorsa volta l'altro è refactoring mvc che contiene l'esercizio che abbiamo fatto invece questa volta infatti se vado nel main nei sorgenti vedo che ho il package model con la classe modello dentro che ho creato oggi d'accordo per oggi è tutto vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima puntata